in Val Camonica Expo 2015 arriva prima con Street Food Days due giorni di gusto cultura e divertimento con il meglio del cibo da tutto il mondo vi aspettiamo l'undici e il dodici aprile al centro congressi di Darfo Boario Terne a cura di Asso Camuna in collaborazione con Street Food on the road